Ben ritrovati con il medico a casa tua, oggi parliamo di un altro argomento, lo facciamo con il dottor Carlo Pomari, è responsabile dell'unità di pneumologia e sacro cuore all'ospedale di Negrar, benvenuto. Grazie a lei, buonasera. Parliamo di alcune malattie respiratorie particolari, ad esempio la bronchite e l'asma, allora intanto quali sono le malattie respiratorie più comuni? Sì, le ha già nominate lei, in realtà le patologie più comuni in croniche, dobbiamo aggiungere questo aggettivo altrimenti non riusciamo a capirci perché ci sono le malattie infiammatorie acute e le malattie croniche. Le più frequenti sono l'asma bronchiale e la bronchite cronica ostruttiva che si differenzia dalla bronchite cronica normale, cioè l'ostruttiva è un segnale già irreversibile di un danno delle vie aeree, cioè le vie aeree sono più ristrette rispetto al normale e non siamo più in grado, neanche con i farmaci o in modo molto minore, di riuscire a farli ritornare a dimensioni normali. Faccio un esempio banale, quando lei va dal gommista, il gommista le dice che le sue gomme sono consumate, quelle gomme lì non ritorneranno più normali come prima. Io mi fermo, non vado più in macchina e il mio danno rimane stabile e fermo lì. Questo è tipico della situazione del fumatore. Alcuni fumatori purtroppo però evolvono nonostante interrompono il danno del fumo e la sigaretta e continuano a peggiorare, cioè il loro calibro bronchiare si riduce sempre di più per un difetto, per un processo infiammatorio cronico che non riesce a bloccare. Quindi ecco, diciamo che se volevo dare una definizione di queste due patologie, sono sottostanti da un processo infiammatorio. Meccanismi diversi, ma è l'infiammazione che generalmente prosegue il danno e quindi da un processo infiammatorio ne conseguono un processo riparativo. Una riparazione in un organo così elastico come quello del polmone crea un danno irreversibile. Ecco, quante sono le persone interessate da questo tipo di problema? Questa è una bellissima domanda, perché ci stiamo interrogando tutti su questo problema. Diciamo che gli studi epidemiologici internazionali danno una variabilità che va dal 2 al 19% della popolazione mondiale, che vuol dire che la variabilità è molto ampia e quindi sapere con precisione quanti pazienti soffrono di questo problema è praticamente impossibile. L'unica possibilità che abbiamo di poter sapere con una certa sicurezza e con un margine di errore molto piccolo è soltanto attraverso studi epidemiologici rigorosamente fatti sul campionamento casuale. Ovvero, io posso, questo l'abbiamo fatto, l'ho fatto insieme con il professor Guerriero che mi ha insegnato tutte queste cose. Esatto, lei ha fatto proprio uno studio, si chiama è un progetto scopri il tuo respiro. In cosa consiste questo progetto? È proprio questo, è uno studio fatto basato su una indagine, non soltanto diciamo di questionario o su domande dirette al paziente o al soggetto che ha fatto l'intervista, ma anche con una spirometria. Fatta questa volta però non in ospedale, ma in piazza. Il primo è stato fatto come studio osservazionale nel 2007-2008 e fatto nelle otto circoscrizioni di Verona. Non so se lei ricorda un container che girava per Verona nelle piazze, nelle maggiori piazze che proprio era portato in quel caso dalla protezione civile che ci metteva a disposizione, quindi i comuni di Verona e quindi... Quindi avete misurato il respiro dei veronesi. Abbiamo fatto una spirometria a tutti coloro che volevano sottoporsi a questo esame. Una spirometria e un questionario. E cosa ne è il risultato? Ne è il risultato che noi abbiamo trovato una patologia sommersa, nel senso che non era assolutamente, diciamo, il paziente non era assolutamente a conoscenza di questo suo difetto, in circa il, diciamo, 11-12% Che è una buona percentuale. Ci sono stati più o meno 2.000 persone. Però non è un campione rappresentativo, perché gli statistici ci direbbero che sono venuti tutti quelli che avevano problemi. E quindi non sappiamo quale sarebbe stato, non avremmo saputo quale sarebbe stato se non avessimo ripetuto l'esperimento questa volta con uno studio epidemiologico rigoroso. C'è un campionamento casuale. Questo è uno stimolo, uno studio che è, diciamo, detto di prevalenza, dove sono state invandate dal Comune di Verona 5.000 lettere a un campione di 5.000 persone su 200.000 in quel periodo di Verona che rappresenta un numero minimo per poter stabilire con precisione di errore dell'1,5% in più o in meno. E lì cos'è il risultato? Il risultato è che la popolazione veronese, la prevalenza è del 9,1%. Quindi è un risultato che si avvicina abbastanza a quello precedente. Si avvicina abbastanza, esattamente. Questo vuol dire che il 9,1% è un 10% quasi della popolazione veronese di questi però che non sapevano di avere il problema. Certo. Adesso vediamo una scheda per vedere un po' gli esami che bisogna fare per capire se ci sono o non ci sono problemi. Vediamo allora questa scheda. Questo è il nostro ambulatorio di fisiopatologia respiratoria dove vengono eseguite tutte le prove di funzionalità respiratoria a riposo. L'esame di partenza è in genere la spirometria semplice che è l'esame che ci permette di individuare il tipo di patologia ostruttiva come l'asma, la broncopneumopatia cronica ostruttiva o restrittiva come la fibrosi polmonare. La spirometria è un esame semplice però richiede un po' di collaborazione da parte del paziente che deve respirare dentro un boccaglio con il naso chiuso e deve eseguire delle manovre respiratorie seguendo le istruzioni dell'operatore. Con questo esame possiamo costruire così dei grafici e misurare alcuni valori che ci permettono di distinguere una patologia ostruttiva da una patologia restrittiva quindi ci permette di fare una diagnosi di BPCO, broncoplionatia cronica ostruttiva o di asma o di altre patologie polmonari. Questo esame può essere completato da esami un po' più complessi che sono l'apletismografia corporea che è un esame che ci permette di misurare tutti i volumi polmonari e quindi ci permette di definire meglio la patologia polmonare. Viene seguita all'interno della cabina apletismografica con la porta chiusa. Il paziente deve sempre collaborare ed eseguire le manovre respiratorie seguendo le istruzioni sempre del tecnico. Il paziente respira sempre nel boccaglio con il naso chiuso però è dentro la cabina chiusa. Un esame di completamento nella diagnosi di asma bronchiale è il test dell'ossidonitrico esalato che misura l'infiammazione osinofila, cioè l'infiammazione delle vie aeree di tipo asmatico allergico e viene fatto sia per la diagnosi di asma bronchiale ma soprattutto per il monitoraggio del paziente. Altri esami di approfondimento per studiare gli scambi respiratori sono la diffusione alveolocapillare del monossido di carbonio che viene seguita sempre su questa sedia. Il paziente respira sempre nel boccaglio con il naso chiuso e misura appunto gli scambi respiratori a livello polmonare e l'emogas analisi. L'emogas analisi è lo studio dei gas ematici proprio a livello del sangue arterioso attraverso un prelievo di sangue in genere a livello radiale che viene letto immediatamente da questo strumento che è l'emogas analizzatore e che misura appunto l'ossigeno, l'anidride carbonica ed altri valori che ci danno un'idea del quadro anche metabolico oltre che il respiratorio del paziente. Quando le prove di funzionalità respiratorie eseguite a riposo nell'altra stanza sono risultate nella norma e il paziente lamenta difficoltà a respirare prevalentemente durante lo sforzo sottoponiamo il paziente ad un test da sforzo cardiopolmonare sulla bici. Questo test ci permette di studiare il paziente dal punto di vista sia polmonare che cardiologico quindi ci permette di distinguere un problema cardiologico da un problema polmonare. Questo esame viene eseguito in collaborazione con la cardiologia del professor Barbieri. Il paziente pedala contro carichi sempre più pesanti ad una velocità costante ed è attaccato ad un elettrocardiogramma e ad un boccaglio che misura tutti i flussi e volumi polmonari. Un altro test da sforzo che viene eseguito sempre in questo ambulatorio che si chiama ambulatorio proprio della dispunea è il test provocativo per la diagnosi di asma da sforzo che in genere viene eseguito sul tappeto che in pazienti spesso giovani che presentano sintomi asmatici come la tosse o il respiro similante soprattutto durante lo sforzo. Allora dottore da questa scheda abbiamo visto quanto sia importante fare una diagnosi e una diagnosi che non sia troppo tardiva per chi ha problemi di questo tipo. È sicuro così perché come tutte le patologie croniche e ormai tutti gli studi a livello internazionale lo confermano, più la patologia evolve o è riconosciuta in un stato tardivo e più costa. Oggi purtroppo dobbiamo fare i conti con questo aspetto importante del costo della malattia sociale perché queste patologie assorbono particolarmente ogni anno migliaia di euro. Un danno economico e poi un danno per la salute anche. Ovviamente il danno per la salute, ma ovviamente più siamo in stato di avanzato e più dobbiamo usare farmaci e poi anche la qualità della vita del paziente più è in stato di avanzato e più è peggiore. E questo mi aggancia al discorso di prima dello studio osservazionale di prevalenza perché il danno, la cosa più eclatante che è esultata da questo studio perché io poi ho intervistato, ogni persona che abbiamo fatto è stata intervistata da me quindi abbiamo fatto circa 7.000 spirometrie in 10 anni e abbiamo parlato con 7.000 persone. Oltre a questionari in farmacia, quindi anche che ho fatto un lavoro bellissimo con la farmacia di Verona con l'ordine di farmacisti, abbiamo fatto circa 20.000 questionari. Un lavoro capillare. Capillare e cosa è emerso? La cosa più importante è che il sintomo respiratorio viene sempre sottostimato. Cioè abbiamo tanta paura delle patologie respiratorie ma in realtà il paziente va dal medico quando il sintomo gli disturba la sua qualità di vita. Altrimenti il raffreddore è continuo ma poco, la tossietta è continuo ma poco, eccetera viene sempre considerata temporalmente causata o dal tempo anche la dispnea. Dice ma non sono allenato, sono i temi più... Normali sono, non sono allenato, sono cresciuto di peso e faccio una vita sedentaria quindi giustifico quel sintomo attraverso questo tipo di interpretazione che è proprio peggiorativo perché vuol dire che il paziente oggi, gli studi dicono, viene da noi quando ormai la sua disprea è talmente elevata che il suo difetto spirometrico è quasi al 50%. Ecco, cosa vuol dire? Ci spieghi bene allora quali sono i sintomi che si manifestano quando c'è la broncopneumopatia cronica o struttiva, respiro corto, ci spieghi bene. Sì, allora diciamo che intanto è una patologia che nella maggior parte dei casi è in relazione al fumo di sigaretta questo dobbiamo dirlo, ma è documentato. Quindi per tanti fumatori. Ed è ovvio che il fumatore la prima cosa che fa di fronte ad una scala è prendere l'ascensore se può perché lui sa benissimo che non respira bene. Quindi i primi sintomi, diciamo che la segnalazione anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è quella di, in un soggetto fumatore che ha più di 45 anni e che è stato o è un fumatore se ha tosse tutte le mattine, se ha catalo tutte le mattine e se ha disprea da sforzo questi sono i primi sintomi che dovrebbero costringere ad andare al medico per fare una spirometria. Purtroppo dai nostri dati risulta che soltanto uno su quattro che ha questi disturbi fa una spirometria. Quindi il fumo incide molto, io penso adesso anche all'inquinamento che c'è, anche questo può incidere? Beh, allora diciamo, mettiamola così, la barriera meccanica, la barriera respiratoria, la barriera difensiva dell'apparato respiratorio è prevalentemente a carico dei bronchi. L'apparato respiratorio si chiama anche albero respiratorio perché è come un albero messo al rovescio. Quindi da un grande tronco che è l'albero principale, che è la trachea, seguono poi i vari divisi dei rami bronchiali fino ai più piccoli e poi le foglie. Quindi le foglie sarebbero la parte di scambio del polmone, quindi la parte diciamo nobile del polmone. Le vie aeree devono filtrare tutto quello che noi respiriamo. Basta vedere quando c'è l'estate oppure in una stanza buia quando filtra la luce, no? Certo. Questo polviscolo lo respiriamo, lo respiriamo con 12 atti al minuto, figuriamoci nell'arco delle 24 ore quanti atti respiratori facciamo. Quindi ogni atto noi introduciamo questa cosa. Quindi questa cosa deve essere fermata da cosa? Dal muco. Il muco lo incolla e poi ce lo riporta fuori attraverso un movimento di ciglia. Questo movimento nel paziente che ha una broncopriombatia cronocostruttiva non c'è più. E quindi noi siamo, c'è il muco che da difesa diventa immediatamente un terreno come l'acqua, l'acqua si inquina se si ferma. Quindi questo è il primo provvedimento. Noi respiriamo, cioè è facile fare del terrorismo, no? Cioè dire sappiamo che l'inquinamento oggi mette, mina questo sistema. E più c'è inquinamento e più a volte al giorno io inquino il mio sistema e più il mio sistema va in crisi. Cioè diciamo è abbastanza automatico. Quindi il problema è come fare. E' chiaro che la prima cosa più importante è lo stile di vita e il fumo di sigaretta. Eliminare il fumo innanzitutto. E su questo è fondamentale ormai. Ormai non c'è più alibi per questo. Purtroppo non è così. Ecco, uno stile di vita all'aria aperta, al movimento, possono servire? Chiaro che sì, però ricordavo l'altro giorno vedevo una ragazza alle sette e mezzo del mattino che veniva giù sulla strada di Negra quando c'è una coda di un chilometro. Questa è la cosa peggiore che uno può fare perché così introduce molto più velocemente e molto più a fondo tutti gli inquinanti che la spina. Per chi soffre di queste patologie e che tipo di terapie ci sono? Sono tantissime. Fortunatamente sono tantissime terapie. La ricerca respiratoria ha avuto di nuovo una nuova era che quella proprio di nuovi farmaci che stanno migliorando sia dal punto di vista dell'efficacia ma soprattutto anche dalla riduzione, perché il fastidio più grande è prendere tante volte il farmaco, essere costretti a ricordarsi di prendere il farmaco più volte al giorno. Oggi è dimostrato che più volte al giorno devi prendere il farmaco, meno è aderente il paziente al trattamento. Si autoriduce da solo il farmaco sostanzialmente, quindi c'è poca efficacia del trattamento. Oggi abbiamo delle soluzioni addirittura con farmaci che devi prendere una volta sola e sono efficaci per 24 ore. Quindi oggi la ricerca sta facendo questo sforzo enorme di usare quelli che noi chiamiamo device, questi erogatori, che devono essere assolutamente efficienti, permettere che le vie aere possano essere contattate da tutto quanto il farmaco. Cioè il farmaco deve essere piccolo per penetrare attraverso questo sistema e soprattutto deve farlo una volta sola e in modo efficace. Allora, è importante riconoscere i sintomi che ci sono, recarsi dallo specialista, però io dico anche perché avesse dei polmoni sani bisogna imparare a respirare un po' meglio, o no? Respiriamo male spesso. Sì, è verissimo questo, ma diciamo che la cosa più che ci aiuta e ci aiuterebbe a respirare bene è un'attività fisica regolare, cosa che purtroppo invece sta, o meglio, specialmente nei giovani, perché il problema, l'altro studio che abbiamo fatto è che è ancora in corso nelle scuole di Verona, qui mi permetto di ringraziare il professor Quaglia, il direttore scolastico che ci ha permesso di fare nelle scuole superiori, questo studio l'anno scorso, nelle scuole superiori nel quinto anno, nelle scuole superiori, anche qui con un campione di 1600 ragazzi, quindi campione rappresentativo della popolazione della classe quinta, abbiamo scoperto che loro c'è soltanto il 30% fatta di trasportiva, è bassissimo, e molti di questi fumano ancora, c'è quasi un 30% di ragazzi che fumano, e loro dicono per motivi di studio, ci credo ovviamente, ma non fanno attività sportiva, e perché l'attività sportiva è importante a quell'età? Perché c'è proprio un discorso di sviluppo armonico dell'organismo, dell'apparato respiratorio, è fondamentale far fare sport fin da piccoli, il pomone si adegua, cresce anche lui in proporzione allo sforzo, non solo i muscoli, ma anche il pomone cresce proporzionalmente allo sforzo che sta facendo, sono studi di medicina sportiva molto interessanti su questo, per cui uno si fa un'attività sportiva fin da piccolo, quando è grande, ha un'ottima funzionalità respiratoria per questo motivo, perché il suo pomone è sviluppato, perché è allenato anche lui. Bene, io direi che siamo in chiusura già di questa trasmissione, ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma intanto ringraziamo il dottor Carlo Pomari, responsabile dell'unità di pneumologia dell'ospedale Don Calabria di Negrar, grazie per essere stato con noi e noi con il medico a casa tua ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.